Nuova sezione, Gesù cade per la terza volta, ti adoriamo a Cristo e ti benediciamo, e se con la tua santa croce è dentro il mondo. Gesù cade sotto il petto della croce. Signore, quando in campo godono e si affollano, si affollano contro di me. Signore, io sono misero e povero, dentro di me il mio cuore è ferito, le mie gambe non mi erano più, le mie forze vengono meno. Ma io confido in te, Signore, dico tu che è il mio Dio. Gesù rimane con il posto rivolto verso terra. Le tue tradute ci ricordano la condizione umana, in cui le debolezze fisiche e morali sono spesso motivo di traduta. Ma tu ci dà la forza per risorrevarci e accettare la nostra condizione umana. Il cristiano non ci sente mai solo, perché sa di averti accanto. Rialzaci, Signore, con il tuo aiuto nulla potrà spaventarci. Niente potrà più farci cadere. Con il tuo aiuto accetteremo le nostre debolezze. Diociremo a guardare con gioia la nostra misera condizione. Non cadremo più nella paura della solitudine. Per Cristo nostro Signore. Amén. Padre nostro che sede c'è, sia santificato il tuo nome. Diociremo a guardare con gioia la nostra misera condizione.